Siamo a Inamenas e solo 180 km ci separano dai Lisi, dove il terribile altopiano del Fandun segna l'inizio della pista che ci accompagnerà per circa 1800 km. L'erge Buare. L'erge Buare. L'erge Buare. Ci riforniamo di acqua alla base di El Adeb L'Arash. Raggiungiamo i Lisi alle 2 del pomeriggio. Conciliamo un po' di riposo pensando di poter partire prima di sera. Dovremo invece attendere fino a mezzanotte l'entrata in funzione della pompa della benzina, che sembra sia bloccata per il caldo.